wave 60 un catamarano una delle imbarcazioni più particolari di questo salone nautico internazione di genoa una barca che si differenzia nettamente dal resto del mercato per un'estetica ricercata con una particolare forma della coperta che vedete alle mie spalle una scelta che ovviamente ha una ragione ben precisa ad essere e che è stata studiata da un punto di vista progettuale ce lo siamo fatti raccontare dal team wave un video da non perdere perché è una delle barche più interessanti questo salone nautico internazionale di genova è molto evidente quando arrivi al nostro barche che è molto diverso da ogni altra barche di questo tipo in realtà stiamo cercando di essere più spazioso e molto comforzante ma allo stesso tempo stiamo cercando di mantenere la performance molto alto quindi stiamo cercando di essere più veloce di questa categoria ma allo stesso tempo stiamo offertvi molto più spaziale e stiamo cercando di fare il migliore di spazio di spazio che possiamo quindi la parte super pensare per la parte per questo tipo di spazio è molto più come il Mediterraneo se è uno dei metri anche per esempio se volete fare una buona della faccia in Croazia e avere una buona qualcosa di buona perché si potreste spazio e potreste spazio di spazio alla fine ma anche a la stessa potreste la la capacità erologia così sono felice ovviamente non è un regatta non vengono l'esegno assurdo di questa ma diciamo che in altri paesi più calmeri, come Mediterraneo, questo tipo di cose, solo per divertire e volere con la sua famiglia. Quindi, la strada che potete vedere qui, è molto molto semplice. Il primo motivo è il design general, come si sembra, il secondo motivo è che in fronte abbiamo trasportato il cockpit, che è normalmente in fronte, quindi c'è un'altra scuola dentro. E anche, come puoi vedere, abbiamo usato per i paneli solar, quindi, in questo modo, abbiamo circa 5 kilowatt di potenza, ciò che ci permette di usare il boat senza alcuni generatori, solo usiamo generatori alternativi principali, ciò che ci permette, per esempio, con le batterie full, possiamo andare per 10 ore utilizzando l'acqua, e tutti i standardi appellazioni, è molto semplice, facile da usare, e se bisogna rinforzare, puoi usare questi, che ovviamente in questo modo sono molto utili, o solo turnare l'acqua per 2 ore, e tu sei finito per il prossimo giorno.